buongiorno ragazzi buongiorno parliamo di calcio mercato seconda cessione da parte della fiorentina momentanea e si tratta di pollirola prima di parlare di pollirola preferisco parlare di calcio mercato perché poi quando arriva la notizia di one football dove de laurentis ha chiesto di nuovo un altro rinvio con juve napoli preferisco non parlarne perché se no ragazzi escono solo parolacce solo parolacce in sto video uscirebbero quindi questa volta non ne parliamo di juventus napoli non parliamo di de laurentis tanto comunque sembra che l'invio che ha chiesto lui sia stato respinto e meno male meno male veramente perché non se ne può più parliamo di calcio mercato come to pollirola sarà un nuovo giocatore dell'olimpic marsiglia andrà in prestito con diritto di riscatto quindi qualora il giocatore fa bene nella squadra francese il giocatore verrà riscattato per una cifra di 12 milioni quindi la fiorentina andrebbe a incassare questi 12 milioni nel 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 che potrebbero far comodo per un altro acquisto futuro però bisogna dire se comunque il giocatore in francia fa bene perché se comunque non convince la squadra francese il giocatore finito il prestito tornerà alla squadra viola cosa ne penso ragazzi io ma secondo me l'irola non era poi così tanto un brutto terzino ma siamo sempre lì come lo stesso discorso per patrick cutrone è un giocatore che per il modulo che usa la fiorentina non veniva utilizzato non veniva utilizzato perché la fiorentina molte volte gioca a tre dietro senza il terzino gioca con milenkovic caceres e pezzella però l'irola ragazzi per me non era un brutto giocatore la fiorentina si si è liberato adesso dello stipendio di l'irola se riuscirà ci guadagnerà questi 12 milioni però per me ha perso dei giocatori importanti cioè ha perso sia cutrone che l'irola che secondo me non sono stati abbastanza valorizzati è un mio parere personale poi ovviamente la fiorentina ha le sue decisioni per ha avuto le sue decisioni per comunque non volere e trattenere il giocatore però questo è quindi il giocatore ha da giocare in francia all'olipic marsiglia e niente ragazzi se convincerà verrà riscattato per 12 milioni se non convincerà a fine prestito nella squadra viola questa è la notizia di mercato che per il momento è uscita solamente oggi quest'unica notizia ufficiale e niente ragazzi noi ci vediamo eventualmente se c'è un'altra notizia di mercato dopo se no stasera con la partita di coppa italia del minan che ci sarà minan torino coppa italia e commenteremo quella partita commenteremo quella partita e ripeto di laurenti se basta basta non ne voglio parlare veramente è una cosa scandalosa perché questo l'invio non ha senso secondo me che ha chiesto quindi non aggiungo altro bella ciao